Simone, è l'esordio con Autolberga, mi ha detto Max che sei nuovo, quindi non so se hai fatto qualche partita. Mi ha fatto già il girone. No, è un anno che sei nuovo nel gruppo. Sì, sì. Infatti volevo subito ringraziare Max, il direttore sportivo che andavo per l'ingaggio. Poi proprio calcio in mercato, so che Max era mio sogno fino a bambino, ce l'ho fatta. Non fate di scherzi, Max è uno che ci tiene sempre a vincere, cerca sempre di fare squadre forti, quindi immagino che tu sia forte, non so. Ragazzi io... Il ruolo com'è? Faccio programma. Il ruolo sulla carta è centrocampista. Per quanto ti fanno fare? Anche difensore, portiere, tutti. Com'è la squadra? La squadra è buona, siamo abbastanza in forma. L'anniversario oggi li conosciamo? L'anniversario io li conosciamo. Non teniamo nessuno, rispettiamo tutti ma non teniamo nessuno. Mentre l'Italia è sempre quella. L'Italia è sempre la grande. Avete già vinto qualcosa con loro? Io sono da quest'anno. Sì, nel senso con loro, quindi non hai mai giocato neanche prima? No, no, solo quest'anno un giro. Ok, quindi vediamo se quest'anno come va. Vi iscriverete a tutti. Tutti i tornei. Se non puoi dire chi è. Ami, facciamo fare il campo. Va bene, buona partita, bocca al lupo. Ciao. Stefano, è andata bene stasera. Comunque voi giocherete sempre bene, la palla a G, la squadra. So che potete vincere. Sì, sì. Tu sei con loro da quest'anno o pure quest'anno? No, l'anno scorso non ho già fatto. Insieme a tuo fratello, che abbiamo intervistato prima la partita. Tu dopo. Com'è questo inizio di stagione con questa squadra? Ah, è sempre una bella squadra diciamo che possiamo farci. Vi hai contattato con Max o poi lo conoscevate qualcuno? No, 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 io conosco Alessio, io dopo lui a 11 e niente. Ma hai detto, vieni, vieni a darci la mano. Sì. Quest'anno si punta sicuramente a vincere un torneo importante, magari quello che è sfuggito l'anno scorso, quindi... Vediamo se mi è andato qua. Vi hanno motivato. Sì, sì. Cosa hai detto? Eh, ha detto, ci dà un buon premio, se riusciamo a vincere queste tornei. Non vi è altro cosa, però no. Adesso... Adesso viviamo. So che è andato a prendere i pasticcini per il suo compleanno. Festeggiato. Festeggiato. Complimenti per la partita. Ciao. Ciao.